Commento al Vangelo secondo Luca 17, 11, 19 Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarilla a Galilea entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebrosi. Tutti e dieci furono guariti, ma solo uno fu salvato, ed è quello che tornò a rendergli grazie. Perché? Questo Vangelo mi fa pensare, mi fa niente in mente, non so bene per quale contatto, ma alla parabola del buon samaritano, perché Gesù stava transitando, aveva già un obiettivo, verso Gerusalemme, ma attraversava altri territori, ma non attraversava quei territori focalizzati esclusivamente su Gerusalemme. Continuava a vivere assolutamente presente al suo ministero, assolutamente presente a se stesso, anche se il suo obiettivo era Gerusalemme, era un altro, era la festa di Pasqua, era tutto quello che sappiamo, che conosciamo. Questo mi fa pensare al buon samaritano, perché qualcuno, a parte il gesto di aiuto del buon samaritano, qualcuno passo via per la strada ed era di fretta, aveva altri pensieri, doveva arrivare a casa, aveva dei compiti, un lavoro, delle attività, per cui calpestava quella persona derubata a terra, invece solo il buon samaritano, che vive nel presente, che vive ogni momento della giornata, sa riconoscere che ci può essere una grazia, anche se stiamo mirando a qualcosa di più in là, e la grazia può accadere in ogni istante, in ogni momento e in ogni luogo, dobbiamo essere pronti a coglierla. L'altro episodio che mi viene in mente è un'università, parlando proprio del buon samaritano, diede a dei ragazzi, a un certo numero, di sviluppare un'attività sul buon samaritano, e poi creò ad hoc una persona che stava male lungo la strada, tanto che questi ragazzi andavano all'esame. E questo è un esperimento vero, e ho letto che soltanto pochi studenti decisero di rinunciare a dare l'esame per soccorrere una persona, rischiare quantomeno di perdere del tempo e non riuscire a dare l'esame, per soccorrere una persona che ad hoc, dall'università, era stata messa per strada. E questo mi ha colpito tanto, come siamo pratici, a parole, a pensieri, nella fede, in chiesa, in giro occhiati, quello che vogliamo, poi se veniamo messi alla prova su qualcosa a cui teniamo tanto. Io quando andavo all'università ci pensavo spessissimo a questi episodi, dicevo caspita, ma io mi fermerei o non mi fermerei? Ecco, indipendentemente da questo, ricordiamoci che delle grazie possono davvero accadere nella quotidianità, e noi dobbiamo essere pronti a essere cristiani nella quotidianità, non soltanto con degli obiettivi macro. E quindi se la nostra giornata punta a arrivare a sera, per cui voglio andare fuori a cena con gli amici, vedo solo quelle, magari qualcuno in ufficio ha bisogno di me e non ho né tempo né voglia di dedicarvi a questa persona. E concludo guardando appunto al grande finale. Io, mi è successo un episodio qua, mentre andavo a correre, una persona aveva, era caduto, aveva rovesciato delle banane a terra, e una volta passai via e non lo aiutai, e da lì ho iniziato a chiedere al Signore che mi aiutasse a ritrovarmi nella stessa situazione. Ed è successo, è successa qualche anno dopo, una persona rovesciò un sacco di mais mentre andai a correre, e quella volta dissi ok, è la mia possibilità, mi sono fermato, ho perso, ho buttato via la mia prestazione, perché tengo il tempo, controllo quanto tempo corro, mi sono messo a raccogliere con lui il mais. E allora ecco che la riflessione sul grande finale di questi episodi è questo. Nel momento in cui la prima volta non ho soccorso questa persona a cui erano cadute le banane, e quindi ho sentito questo rimorso di coscienza, Dio che lavorava in me, lo spirito che mi donava di capire l'errore che avevo fatto dinanzi alla mia fede, ecco che quello è veramente un dono di Dio, ed è la guarigione, ecco che il lebroso è guarito, la lebra che c'è nel nostro cuore è guarita gratuitamente dal dono di Dio. Però poi bisogna tornare a dire grazie, bisogna essere salvati, e per salvarsi lì c'è tutta la nostra, la seconda fase, quella di dire ok adesso, la prossima volta che mi capita agirò diversamente, ecco che lì c'è la nostra presenza al dono di Dio, per cui oltre che alla guarigione andiamo incontro anche alla salvezza. Buona domenica.